Buongiorno a tutti e tutte, Roberto Iovino della Segreteria regionale della CGL di nome del Lazio. Intanto ringrazio ovviamente Stefano Fassina e la consigliere Grancio per l'invito a una mattinata di confronto che già negli interventi che mi hanno preceduto tutti molto autorevoli mi semplificano il compito di portare il mio mesto contributo. In particolare mi piace stare in scia a due interventi che ho sentito, uno è quello di Alberto Civica della UIL e l'altro è quello di Giuseppe De Marzo perché secondo me pongono due temi da prospettive apparentemente diverse che poi in realtà vanno a incidere su punti che sono molto simili e utili al dibattito di questa mattina. Devo dire che quando con Stefano ci siamo sentiti rispetto all'opportunità di fare questa mattinata di lavoro insieme è un po' il rischio, l'ho detto anche in altri contesti, che alla vigilia delle elezioni politiche, fisiologicamente ognuno di noi, amministrative, comunali, il rischio che ognuno di noi dia un contributo nelle solite stanze un po' grigie, lo dico io che ho i capelli brizzolati, diciamo in scia all'ultimo intervento che mi ha preceduto, c'è nel senso di fare la solita modalità di confronto dove ognuno fa la lista della spesa per poi provare a presentarsi e rappresentare delle istanze. Queste sono formule assolutamente nobili, non voglio dire che non siano giuste, però io penso che siamo in una fase della nostra storia un po' più complicata, che riguarda tutti, movimenti, associazioni, realtà territoriali, partiti, sindacati, nessuno escluso. Io penso che quando Stefano ci invita a ragionare su un elemento di fase ci invita a fare una riflessione che è quella di oggi e quella che avremo davanti nel prossimo anno e mezzo, ovvero che i mali di Roma non sono solo legati alla città di Roma, ma i mali di Roma non sono nati negli ultimi tre anni. C'è la situazione che stiamo vivendo, l'emergenza, l'esplosione delle diseguaglianze, l'idea per cui oggi Roma è la capitale delle diseguaglianze, come diceva Giuseppe, ma mi permetto di aggiungere anche una capitale che è diventata laboratorio, essendo la città metropolitana più grande di questo Paese, della nostra contemporaneità, dove sono state sperimentate forme speculative a tutto tondo. Scandurra parlava della speculazione edilizia, ma non solo. Se si pensa alla condizione di chi lavora negli appalti in questa città, anche il tema della speculazione e della svalutazione del lavoro in una realtà metropolitana come la nostra è stata negli ultimi 20-25 anni un vero e proprio laboratorio di diseguaglianze di precarietà, di impoverimento progressivo, che è aperto alla speculazione di alcuni poteri forti, ma anche delle organizzazioni criminali e mafiose, come si diceva prima del mio intervento. Ecco, io penso che questo è l'elemento su cui ragionare, perché il cambio di fase c'è se tutti metabolizziamo un dato, ovvero che il modello di sviluppo che ci ha portato a questa condizione di esplosione delle diseguaglianze è un modello di sviluppo che ha fallito. Io lo dico con estremo realismo anche alle responsabilità di ognuno di noi, è evidente che anche il sindacato non è esente da queste responsabilità, ma io penso sia arrivato il momento di dircelo con estrema chiarezza, che ricette, che io vedo che qualcuno vuole riproporre come se fosse un copio in colla del passato rispetto a quelli che sono gli attuali mali di Roma, non sono altro che l'altra faccia dei mali di Roma, cioè quelli che ci hanno portato in questa situazione. E quindi quando si parla di qualità del lavoro, io lo dico anche rispetto ai più giovani, noi siamo una città che è diventata laboratorio di lavoro povero, noi abbiamo una decorrenza dei contratti a tempo determinato, si parla di Roma città dei servizi, laddove in realtà noi abbiamo più della metà dei contratti che vengono attivati, che non hanno una durata che supera il mese. E allora di quale città dei servizi stiamo parlando, cioè dei servizi a basso valore aggiunto, laddove c'è una svalutazione del lavoro che fa gli interessi di qualcun altro e non di chi vive e lavora in questa città. E da qui dipendono tante cose, la qualità dei servizi pubblici, quello che diceva Alberto rispetto a come è cresciuta la città e l'impossibilità di essere realmente e di coprire a costi attuali dal ciclo dei rifiuti alla questione abitativa. Io penso che chi si vuole candidare a cambiare un po' l'inerzia della storia degli ultimi 20-25 anni in questa città, che ha piena aderenza rispetto anche allo Stato del Paese, deve dire con molta nettezza che si tira una riga e si costruisce una storia nuova. Guardate, io sto nel sindacato insieme a tanti compagni e compagne, ci stiamo misurando con tante vertenze in questo periodo. L'altro ieri mi sono imbattuto, voi sapete che da qui a breve si voterà lì delle elezioni politiche in Inghilterra nella campagna di Corbyn. Il manifesto che ha lanciato Corbyn in Inghilterra, forse una riflessione ce la dovrebbe parlare anche a noi, perché io rimango sempre un po' pallido nel confronto che c'è tra quel manifesto e quello che è il dibattito nel nostro Paese. Penso alle forze di sinistra, più o meno radicali o anche quelle ormai che possiamo considerare moderate e di sistema, come in alcuni casi il Partito Democratico. C'è una distanza siderale tra le proposte che vengono fatte, Corbyn sta facendo una campagna che può sembrare retorica, ma per me non lo è, per i tanti e non per i pochi, cogliendo un tema di una politica che progressivamente si è sempre più allontanata da quelli che sono i bisogni concreti. Allora io il contributo che volevo portare oggi è questo qui. Noi non viviamo in una città morta, noi viviamo in una città viva che è piena di energie che sono elementi di resistenza, che devono essere elementi costitutivi di una proposta di alternativa. Prima si riesce a condividere, si parlava dell'ascolto, si parlava di coalizioni, io penso che la prima cosa da fare sia liberare e dissequestrare un po' questo dibattito, metterlo a disposizione della città, poi arriverà il tempo per fare qualsiasi valutazione su quale è la forma migliore, ma il tema è costruire un piano programmatico e di protagonismo vero di chi ha fatto resistenza in questa città che deve avere la forza anche di candidarsi a essere un'alternativa credibile rispetto ai disastri che vive questa città. Poi detto questo va bene l'assetto istituzionale, è ovvio che servono risorse, ma serve prima di tutto una reazione di orgoglio dove si ricostruisce una credibilità tra il ruolo di rappresentanza e Stefano e Cristina al loro modo per il loro pezzo di contributo innegabile che l'hanno fatto, ma c'è un problema profondo di diffidenza. Quando Giuseppe ci dice che nelle periferie i deboli seguono i forti, questo succede anche perché, e lo dico per primo io che faccio parte di un'organizzazione come la CGL, nessuno si può sentire esente da responsabilità, si è rotto un vincolo di fiducia. E allora se c'è qualcuno che vuole riproporre delle ricette che da vent'anni a questa parte ci hanno portato a questo stato della situazione, io spero che il lavoro programmatico che si può condividere, ognuno per il ruolo che ha, possa riaccendere certo un piano politico programmatico importante di discontinuità rispetto al passato, ma soprattutto un protagonismo vero da portare nelle città. Io non so se il tema è fare una carovana come appuntamenti da fare nelle singole periferie come se fossero sostanzialmente dei teatri del disastro. Io penso che dobbiamo ribaltare anche un po' questo concetto, fare in modo che ci siano luoghi accoglienti, aperti, dove si eserciti un protagonismo per ricostruire credibilità ed efficacia di un'azione politica. Ovviamente chi parla non ha la soluzione in tasca, ma penso e sono convinto che se si fa un percorso di diversi mesi dove questa rabbia viene trasformata nella capacità propositiva di chiudere con il passato e con un modello di città che ci ha portato all'allargamento delle diseguaglianze, alle speculazioni mafiose, io penso che in questo momento chi parte e parte bene può arrivare lontano. Poi se c'è qualcuno che pensa che ancora una volta questa vicenda si risolve in una stanza, in un accordo tra partiti, si confronterà con chi in questi anni, in questa città, ha fatto resistenza e non ne può più anche di vedere proposte che vengono calate dall'alto e inefficaci. Concludo anche io con un riferimento alla cosa che diceva sempre Giuseppe che mi perdonerà per i continui riferimenti al suo intervento, ma lo ritengo importante. Quando nel 78 viene ammazzato Peppino Impastato non esisteva nel nostro codice penale il reato di associazione mafiosa e nonostante ciò lui diceva che la mafia era una montagna di merda e lo è tuttora. Io penso che chi ha la presunzione o sente la responsabilità di voler dare un'alternativa a questa città non debba dismettere due elementi fondamentali, l'antifascismo e la consapevolezza che il legame tra fascismo e mafia in questa città è un pezzo di quella speculazione dei poteri forti e se c'è qualcuno che vuole scendere a patti con quei segmenti dei poteri forti che fanno con fascisti e mafiosi alleanze quotidiane io penso che noi dobbiamo stare da un'altra parte. Grazie.